buongiorno a tutti siamo qui con Filippo Lamantia che ha portato al food experience di Milano il sapore della Sicilia Filippo abbiamo saputo che tu non usi cipolla aglio scalogno ma solo il profumo degli agrumi è una cosa che si può fare anche a casa ma assolutamente sì siccome le tradizioni italiane della cuscina ovviamente prevedono sempre e comunque il soffritto il soffritto nasceva quando l'ingrediente o non era buono quindi per insaporirlo ovviamente i contadini o la gente povera o cose varie utilizzava il soffritto che è buonissimo io non ho nulla contro questo progetto infinito solamente che ho dimostrato in questi anni che ci sono delle alternative perché poi ho scoperto facendo questo lavoro che ci sono migliaia di persone che sopportano male l'aglio e la cipolla quindi io voglio rappresentare un'alternativa tutto qua ecco noi abbiamo visto Filippo arrivare con una valigia stupenda piena di ingredienti in particolare c'era una busta con del finocchietto profumatissimo cosa ci dici di questi profumi che arrivano dalla tua terra ma guarda tre volte alla settimana un grandissimo personaggio di Scicli che ha inventato il primo vivaio per cuochi mi spedisce un cartone pieno di profumi ed io è l'unico cartone che non vedo l'ora di aprire perché si riempie tutto di un profumo straordinario porta i profumi anche a Roma l'hotel majestic di cui è titolare del ristorante grazie grazie a tutti buona buon divertimento al food experience grazie grazie mille grazie a tutti